Come da previsioni, Carlo Bigongiari è stato eletto nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca. 62 anni, ex assessore a Massarosa, Bigongiari ha traghettato da commissario il partito lucchese verso le nuove nomine dirigenziali ed era anche l'unico candidato alla carica di coordinatore. Al congresso provinciale di Forza Italia, svoltosi all'hotel delle ville di Lammari, erano presenti tra gli altri parlamentari Deborah Bergamini e Paolo Barelli, il coordinatore regionale Marco Stella e i più importanti rappresentanti forzisti della Lucchesia. Dopo il rinnovo delle cariche, il partito adesso si prepara alle importanti scadenze elettorali del 2024. Un congresso unitario che ci vede impegnati nei prossimi sei mesi, da una parte con le elezioni europee, ma più che altro per quanto riguarda la situazione in provincia di Lucca con le amministrative. Quando parlo di amministrative parlo principalmente del Comune di Capannori. Ecco, sul Comune di Capannori dobbiamo veramente mettere grande attenzione, grande impegno perché secondo me dopo 20 anni di amministrazione di sinistra il centro-destra ha veramente la possibilità di riconquistare il Comune di Capannori.